3. Il sistema feudale Durante il Medioevo, gli europei crearono il sistema feudale. Questo sistema è unico nel vecchio mondo perché gli uomini che lo crearono cercarono di avere una doppia visione della realtà. Cercarono di combinare l'antica superstizione, secondo cui l'autorità controlla un universo statico, con la consapevolezza che gli uomini sono liberi. Una cosa strana accade quando un imperatore accettò la fede cristiana. Cristo proclamò la libertà individuale e dichiarò che questa verità avrebbe distrutto i regni e un imperatore, per rafforzare la sua autocrazia, esortava e obbligava i suoi sudditi a essere cristiani e a obbedire in nome di Cristo. Quest'azione stupefacente è stata possibile solo perché gli europei hanno modificato la loro idea di cristianesimo. Il Dio di Abramo, Mosè, Cristo e Maometto è un Dio unico. I primi cristiani, così come gli ebrei e i musulmani, vedevano l'universo appunto come un universo, un'unità, una cosa sola, indivisibile. Vedevano l'essere umano come unità indivisibile. Dai vostri frutti, dalle vostre azioni, sarete giudicati, scriveva, perché le vostre azioni sono voi. La fede senza le opere è morta. Un uomo agisce in accordo con la sua fede. Una fede che non dà forma ai suoi atti non esiste in lui. L'energia opera sotto controllo e non può essere separata dal suo controllo, come può dunque esistere una separazione tra l'Io di un uomo e i suoi atti, tra la sua anima e il suo corpo vivente. Quei primi cristiani erano pochi e, come gli israeliti, possedevano una verità che li isolava dal vasto mondo pagano. Come gli americani, in un paese straniero, si riunirono naturalmente in piccoli gruppi. Per secoli, questi piccoli gruppi furono dispersi, ognuno circondato da moltitudini di pagani. Hilaire Belloc, uno studioso cattolico inglese, afferma che nel III secolo, Un uomo che avesse studiato gli insegnamenti di Cristo e vi avesse creduto, vivendo sinceramente una vita simile alla sua, non pensava nemmeno di definirsi cristiano. Un cristiano doveva essere ammesso in un gruppo ristretto ed esclusivo per essere tale. Doveva sottomettersi assolutamente alla sua disciplina ed era soggetto all'espulsione. Si aveva un'opinione che differiva dai decreti della Chiesa. Lenin copiò questa struttura e disciplina dalla Chiesa primitiva nella sua organizzazione dell'attuale partito comunista. Hitler l'ha copiata dai comunisti. È un metodo efficace che una piccola minoranza può usare contro una maggioranza schiacciante. Con questo metodo, la Chiesa ha preservato la dottrina cristiana. Con questo metodo, la Chiesa è sopravvissuta nei secoli, mentre il mondo romano crollava sotto la sua economia pianificata. La Chiesa è emersa da quel caos come l'unico gruppo coerente tra le rovine dell'impero. Nel frattempo, i leader della Chiesa avevano dato forma alle dottrine. Quattro dei più grandi di questi pensatori sono chiamati padri della Chiesa e il più forte, intelligente ed efficace fu Sant'Agostino, che per nove anni era stato un sacerdote manicheo. Durante tutti questi primi secoli cristiani, la maggior parte dei pagani europei erano manichei. Mani fu un riformatore che attaccò il più antico culto del sole, ne aggiornò le dottrine, per così dire, e investì l'Europa con un'ondata di entusiasmo religioso. Vedeva l'universo più o meno come era il mondo romano all'epoca. C'era stata, diceva Mani, una catastrofe. Il dio sole aveva un tempo tenuto sotto controllo le tenebre, ma ora tutto era mescolato in una confusione, in una battaglia. In tutte le cose la luce e l'oscurità, il bene e il male si stavano combattendo. La battaglia sarebbe terminata quando tutta la luce fosse tornata nel sole. C'erano scintille di luce in tutte le cose, compresi gli uomini. La funzione peculiare dei sacerdoti manichei non era quella di aumentare la luce negli uomini, ma di essere trasmettitori attraverso i quali Dio, il sole, richiamava a sé tutto il bene, cioè la luce. In questo modo servivano sia i sole che gli uomini, accelerando la fine della battaglia e dell'universo. Così i manichei vedevano la natura delle cose non come unità, ma come guerra tra opposti, guerra tra il sole e le tenebre, tra l'anima e il corpo, tra il caldo e il freddo, l'umido e il secco, l'alto e il basso, la destra e la sinistra, il nord e il sud. Insomma, guerra dappertutto, in ogni cosa. Sant'Agostino servì questa fede come sacerdote del sole per nove anni, prima che le preghiere della madre cristiana, di sua madre, lo aiutassero a vedere la verità più grande nella chiesa. Divenne cristiano, vescovo e il più influente dei quattro padri della chiesa. Quando l'imperatore Costantino iniziò a difendere la fede, la chiesa era un baluardo in un impero in rovina. I vescovi vedevano l'universo come una lotta tra il bene e il male, credevano che l'intero mondo materiale fosse malvagio e che la chiesa fosse l'autorità creata da Dio per redimere l'umanità dal peccato originale e per condurre e vincere la guerra del mondo spirituale contro il mondo materiale. Ogni cristiano europeo credeva in questa guerra tra due mondi e credeva che il suo corpo fosse nel mondo materiale e la sua anima in quello spirituale. Ha anche mantenuto la sua credenza pagana, secondo cui l'universo è stato creato ed ora è statico e controllato dall'autorità. Poiché tutti credevano che l'autorità lo controllasse e che fosse diviso in due parti, tutti credevano senza sorpresa che la loro anima appartenesse a Dio o al diavolo e il loro corpo al re o all'imperatore o al feudatario o al governatore. Papa Innocenzo III, che dopo le crociate rese la chiesa il più forte potere in Europa e si avvicinò molto a stabilire una pace europea a duratura, affermò ciò che tutti i cristiani credevano. Come Dio ha posto due grandi luci nei cieli stellati, una maggiore per presiedere il giorno e una minore per la notte, così ha stabilito nel regno della Chiesa universale due grandi poteri, uno per governare le anime degli uomini e uno per governare i loro corpi. Per più di mille anni gli europei hanno vissuto in una costante lotta tra sacerdoti e baroni, tanto comune per loro quanto lo è per gli americani la lotta tra politici al momento delle elezioni. Tutti i valori della vita umana che a causa di quel lungo conflitto in Europa molti americani considerano ancora erroneamente opposti ai valori materiali, tutti gli ideali, la moralità, il sentimento umano e il riconoscimento di fatti come la fratellanza umana e il controllo dello spirito sul corpo, la Chiesa li ha preservati, promossi e combattuti durante quelle epoche di miseria e degrado umano in Europa. Ma come si suol dire, in quell'epoca lo Stato controllava la Chiesa. La frase significa che i baroni comandavano più uomini da combattimento dei Vescovi. Un Vescovo aveva un vero e proprio potere sulle menti degli uomini perché si credevano che lo avesse, ma in battaglia non aveva alcuna possibilità di combattere contro un numero maggiore di baroni armati e di loro vassalli. Ora, se Dio controlla gli uomini, logicamente un Vescovo, che è l'agente personale di Dio, non può essere comandato da un barone. Così, per secoli, i papi, con la logica dalla loro parte, e gli imperatori, con i combattenti dalla loro, hanno lottato per decidere la questione. La Chiesa controlla lo Stato o lo Stato controlla la Chiesa? A nessuno è venuta in mente una terza soluzione. In effetti, questa controversia continua ancora in Europa. È stata una delle cause della recente guerra civile in Spagna. Mussolini deve scendere a patti con il Vaticano. Hitler osa solo cautamente attaccare la Chiesa. La Chiesa d'Inghilterra è ancora esattamente questo. A un inglese è concessa la libertà religiosa, certo. Può essere dissenziente se vuole, ma il governo raccoglie le tasse per sostenere la Chiesa d'Inghilterra e gli aristocratici nominano gli ecclesiastici. Non molto tempo fa, gli americani sentirono alla radio l'abdicazione di un re d'Inghilterra e seppero che si era conclusa una lotta tra il re imperatore e l'arcivescovo di Canterbury. Anche negli Stati Uniti un'oscura pretesa di tutte le Chiese di essere il governo è ancora riconosciuta nel fatto che le Chiese americane, come tutti i governi, non pagano tasse. Nel secolo successivo, a quando Papa Urbano II iniziò a inviare i combattenti fuori dall'Europa, la Chiesa divenne il potere più forte. La maggioranza degli europei credeva così tanto che il Papa fosse l'autorità in terra che nessun imperatore avrebbe potuto sfidarlo e sotto l'autorità della Chiesa gli europei svilupparono il sistema feudale fino alla sua perfezione. Uomini di grande cultura e intelligenza ritengono oggi che i secoli feudali siano stati il punto più alto di civiltà che gli uomini abbiano mai raggiunto, Hiller Belloc dice del sistema feudale. Una civiltà che è stata senza dubbio la più alta e la migliore che la nostra razza abbia conosciuto, conforme all'istinto dell'europeo che soddisfa la sua natura che gli dà quella felicità che è il fine dell'uomo. Per un americano è difficile immaginare quel mondo feudale. Sembra infatti un dato di fatto che nel sistema feudale l'individuo esistesse a malapena persino nella sua mente. In un modo incomprensibile per gli americani, ognuno sentiva di vivere in due mondi. Nel mondo invisibile tutte le anime erano uguali. La misericordia e la giustizia di Dio erano uguali per tutti. Per Dio l'anima dell'imperatore non era più preziosa di quella dello schiavo e questo mondo spirituale era il mondo reale. Gli uomini sentivano veramente che questo mondo materiale era temporaneo. Un uomo pensava a questa terra e al proprio corpo come un americano pensa ai suoi vestiti. Presto li avrebbe gettati e sarebbe entrato nel mondo reale, quello dello spirito. Nel mondo temporale, invece, ognuno aveva il suo posto ed era tenuto ordinatamente al suo posto. Un uomo nato contadino rimaneva contadino, non poteva sforzarsi di essere null'altro, non poteva correre rischi, non poteva subire fallimenti, non aveva alcuna responsabilità sulle proprie sorti. Questa assenza di responsabilità, di ambizione, di fiducia nel cambiamento è anche un'assenza di molte cause di malcontento. Nel sistema feudale, ognuno era il più sicuro possibile. Il servo della Gleb era legato alla terra che lavorava, non poteva lasciarla né perderla. La lavorava come gli era stato ordinato. La sua parte di qualsiasi raccolto inviato da Dio era fissata. Non poteva rischiare né guadagnare né perdere nulla. Se un altro barone si impossessava della terra, il servo era comunque lì, al sicuro. Cambiava barone. Ognuno era sicuro come lui nella sua classe di appartenenza lavorativa. Doveva un certo dovere alla sua classe e riceveva una certa protezione. La sua classe aveva una dovere nei confronti di ogni altra classe e riceveva da ciascuna un certo ritorno. Al cavaliere, la classe dei servi della Gleba doveva obbedienza e lavoro, la classe dei contadini doveva obbedienza e lavoro e certe quantità di certi cibi consegnati in certi momenti dai prodotti della terra comune e dei contadini. La classe degli artigiani nelle loro varie corporazioni doveva al cavaliere e al barone una leale deferenza e determinate quantità di beni di ogni tipo, tutto ciò che era necessario per le loro famiglie e le loro guerre. A queste classi lavoratrici i cavalieri e i baroni dovevano giustizia e protezione militare. I cavalieri dovevano al barone il loro servizio militare, il barone doveva ai cavalieri e ai pagi la giustizia, l'addestramento militare e la leadership. Al re, il barone doveva il suo servizio militare quello dei suoi cavalieri e vassalli. Il re era anche un barone. I suoi servi, i contadini e gli artigiani provvedevano alle sue necessità. A loro, ai suoi cavalieri e pagi e ai baroni minori del suo regno, il re doveva la giustizia e la guida militare. Gli individui agiscono in accordo con la loro fede, creano il mondo umano a immagine del loro Dio. Gli europei medievali credevano che l'universo fosse statico e immutabile, che Dio non fosse più il creatore ma un'autorità di controllo e che nel mondo invisibile di Dio tutte le anime fossero uguali. Perciò introdussero nell'antico mondo pagano dei despoti e degli schiavi la conoscenza cristiana dell'uguaglianza umana e crearono il sistema feudale. Questo sistema non era così semplice in pratica come in teoria. Era infinitamente complicato dalla natura reale degli esseri umani che non sono cellule di un'unica classe. Crearono ogni tipo di eccezione ma allo stesso tempo con pazienza inserirono queste eccezioni all'interno del sistema. Nel XII secolo avevano cristallizzato i più piccoli dettagli del comportamento. Per esempio un artigiano doveva al suo apprendista vitto, alloggio e formazione nel mestiere. L'apprendista doveva al suo maestro obbedienza e lavoro fedele ma l'apprendista non poteva pretendere un letto. Il padrone poteva lasciarlo dormire solo sulla nuda terra. D'altra parte la moglie del padrone poteva mandarlo a fare delle commissioni ma nessuno poteva chiedergli di lavare i piatti o di badare al bambino. Ogni relazione umana era regolata in modo così minuzioso. nessuno doveva mai o poteva mai decidere cosa fare. Quello era un sistema sociale notate la parola quando parlando dei modi in cui gli esseri umani vivono e gestiscono i loro affari si dice sistema si intende proprio questo o almeno il sistema feudale fu il sistema sociale più perfetto della storia aveva persino una valvola di sicurezza per rilasciare qualsiasi pressione di energia al suo interno un ragazzo eccezionale ambizioso e dotato poteva ottenere dal suo padrone il permesso di imparare a leggere e a scrivere e di entrare nella chiesa la disciplina ecclesiastica era severa ma la chiesa rappresentava il mondo spirituale e in essa tutti gli uomini erano uguali ogni sacerdote poteva diventare papa il figlio di un servo della gleba divenne papa al di fuori della chiesa la struttura di classe era una struttura che gli uomini viventi non potevano creare né sopportare se non erano convinti che l'universo è statico e diviso in due parti non avrebbero potuto sopportare la sua stagnazione se avessero sospettato che il progresso è possibile si sarebbero ribellati alle disuguaglianze di ricchezza e di potere se non avessero sentito che questo mondo è solo una sala d'attesa da cui si va in paradiso il valore pratico del sistema feudale era la sospensione dei combattimenti la guerra è la funzione essenziale di ogni tipo di governo i cui sudditi credono che sia l'autorità a controllarli così la guerra era la funzione essenziale del sistema feudale ma l'autorità della chiesa si opponeva alla guerra ed esentava le classi lavoratrici dal combattere la guerra era l'unica ed esclusiva attività di cavaliere e baroni che vi si dedicavano rigorosamente prendendosi solo il sabato pomeriggio per qualche giro di rapina la guerra imperversava nelle campagne feudali con la stessa normalità dei cicloni e delle piaghe delle cavallette nel Kansas dei pionieri e in modo molto più distruttivo come ogni bambino di Londra conosce oggi il suono delle bombe così ogni bambino dell'Europa feudale conosceva il suono che Chesterton celebrava le intolleranti trombe dell'onore che inaugurano con una risata di ferro la venuta delle armi cristiane spesso inoltre l'ira di Dio si abbatteva con epidemie di colera tifo peste bubonica e la gente comune moriva migliaia ne morivano così rapidamente che i sopravvissuti non riuscivano a seppellire cadaveri mentre i signori e le signore si rifugiavano in case dove facevano festa in campagna per tutta la durata dell'epidemia ma il sistema permetteva all'energia umana di funzionare abbastanza bene da sfamare e riparare quasi tutti le carestie non erano così frequenti come in passato i borghesi e le loro moglie persino alcuni contadini indossavano le scarpe nei giorni di festa gli artigiani e gli artisti costruirono le bellissime cattedrali gotiche a nessuno importava di vivere ammassato intorno a esse senza più servizi igienici di quelli che hanno i bovini nei recinti questo sistema è stato davvero la massima espressione della civiltà europea ma nella sua perfezione durò poco più di un secolo un'enorme quantità di energia andò perduta quando la peste nera attraversò l'Europa uccidendo in alcuni luoghi un terzo della popolazione e in altri più della metà che ovviamente non aveva la più pallida nozione di igiene o di medicina poi dai saraceni gli italiani si fecero un'idea più precisa dell'universo e degli esseri umani picco della mirandola predicava la dignità dell'individuo e diceva a te solo è dato una crescita e uno sviluppo che dipendono dal tuo libero arbitrio in Inghilterra Ruggero Bacone scriveva un solo individuo vale più di tutti gli universali e Dio non ha creato il mondo per il bene dell'uomo universale ma per il bene delle singole persone i commercianti italiani stavano creando le loro città libere e i loro affari andavano a gonfie vele nelle città libere tutti facevano soldi e il tenore di vita era alle stelle eppure questi italiani immaginavano ancora un universo statico sebbene le loro energie stessero creando un mondo in continua evoluzione le loro menti pagane credevano che la ricchezza fosse stata creata e che non sarebbe mai potuta esistere più di quanto esistesse nel loro tredicesimo secolo così quando altri italiani crearono un'altra città libera nelle vicinanze e cominciarono a prosperare creando più beni e più commercio i commercianti della città libera più vecchia radunarono i loro cittadini e attaccarono e assaltarono la città rivale distruggendola completamente questo era il loro modo di gestire la concorrenza come se oggi gli abitanti di Chicago distruggessero Milwaukee Detroit Cincinnati St. Louis sulle città gemelle per accaparrarsi la loro prosperità o come se la General Motors distruggesse gli stabilimenti della Ford per accaparrarsi una fetta maggiore del mercato delle auto che non si espande mai poi l'energia della Spagna che l'autorità aveva riversato nella guerra travolse il sistema feudale europeo che fu attaccato anche dai riformatori tedeschi l'attacco tedesco alla chiesa non fu un attacco alla credenza pagana nell'autorità la riforma fu una lotta per ottenere l'autorità i tedeschi la iniziarono i pensatori tedeschi sono sempre stati di mentalità pagana l'impero romano non conquistò mai i tedeschi che non impararono mai il concetto romano di legge la chiesa cattolica romana non li ha mai conquistati e non ha insegnato loro il senso feudale dei diritti umani non c'è ovviamente alcuna differenza umana tra un tedesco o chiunque altro ma le persone che vivono in quella parte della terra chiamata Germania hanno sempre vissuto appena fuori dai confini dell'Europa il loro modo di pensare non è mai stato del tutto europeo così quando la chiesa quando la chiesa cattolica divenne europea la ribellione contro di essa nacque naturalmente dai pensatori tedeschi e si diffuse naturalmente tra il popolo tedesco e i suoi parenti tribali gli olandesi ma non fu un vero movimento rivoluzionario la riforma fu inizialmente uno sforzo per riformare la chiesa poi i leader dei gruppi di protesta i protestanti negarono l'autorità del papa e dichiararono di essere loro l'autorità come tutti sanno i puritani e i pellegrini portarono in America non la libertà di adorare Dio ma una teocrazia che pretendeva di essere l'autorità che dettava la coscienza di tutti solo tre o quattro generazioni di europei vissero nel sistema feudale perfezionato dopodiché sono nati in un'epoca di confusione le nuove idee erano ovunque tutti discutevano su tutto si diceva che la terra fosse rotonda i protestanti dicevano che il papa non era infallibile i re cercavano di gestire i loro regni come se fossero di loro proprietà i baroni che obbedivano alle usanze feudali ma non avevano mai obbedito a un altro barone si rifiutavano di essere comandati da un collega che diventava re in tutta Europa i baroni e i re erano in lotta Colombo vide l'India a ovest ma come a ovest si la terra è rotonda gli eserciti esplosero dalla Spagna guerra nei paesi bassi guerra in Francia guerra nelle Germanie e i pagani attaccavano Vienna il diavolo ebbe in mano tutti gli olandesi 40.000 e più vennero massacrati e bruciati sul rogo e ancora ci furono eretici il cielo aiuti un uomo che cercava di guadagnarsi da vivere in tempi come quelli questo fenomeno è chiamato ascesa della monarchia e ascesa del nazionalismo perché per alcuni secoli i re sconfissero i baroni ovunque nel continente europeo se sia la convinzione pagana che una qualche autorità controlli gli individui e la convinzione feudale che Dio collochi ogni persona al posto che le compete nel mondo temporale si conclude naturalmente che un re che governa i baroni ha il diritto conferitogli da Dio di governarli e naturalmente di governare tutte le classi inferiori perciò gli europei continentali credevano facilmente nel diritto divino del re ne conseguì che i figli del re ereditando la sua natura divina dovevano essere un tipo di essere umano superiore a tutti gli altri l'equilibrio dei diritti e dei doveri tra le classi venne meno quando gli europei credettero che i re e i principi fossero partecipi della natura divina di Dio ma tutte le altre credenze feudali rimasero e rimangono ancora la credenza che l'universo sia immutabile la credenza nell'autorità la credenza nelle classi sociali la credenza che ci debba essere un sistema sociale che il sistema sociale e il governo siano la stessa cosa e la credenza che qualsiasi cosa o chiunque controlli gli individui debba rendere tutti sicuri nell'ordine sociale sono tutte credenze feudali che gli europei moderni hanno iniziato a sostenere con passione dopo che i re assunsero l'autorità sul sistema di classi feudali infatti quanto più il re cercava di imporre l'ordine sociale e il controllo della produzione previsti dai suoi ministri tanto meno i sudditi furono in grado di produrre il tentativo del governo di controllare le energie degli uomini consumava sempre di più la ricchezza che si producevano e sottraeva sempre più energia all'energia produttiva della nazione una nazione non è altro che un'area dell'Europa moderna racchiusa da frontiere che sono limiti geografici all'uso della forza da parte di un governo quando i re avidi di potere ruppero il sistema feudale rivendicarono per sé tutta l'autorità e la responsabilità del controllo e dissero io sono la nazione l'idea della nazione era un'idea nuova ma i re che distruggevano il sistema feudale dovevano avere un'idea nuova perché tutti sapevano che governavano tutti coloro che potevano sottomettere con la forza chiunque indipendentemente dalle razze dalle lingue dalle culture dalle religioni o da qualsiasi altro terreno comune tra le persone governate un re come qualsiasi altro uomo deve avere una base su cui poggiare una base religiosa se non esiste già bisogna inventarne una come Hitler oggi inventa il nuovo ordine così i re e i loro sostenitori inventarono la nazione non c'è ragione più naturale o sensata per una nazione in Europa di quanto non ce ne sia per uno stato di questa unione la Germania non è una nazione tedesca più di quanto lo sia il Wisconsin e la Louisiana è una nazione francese se la Francia può pretendere di esserlo i normanni i guasconi i bretoni i provenzali non intesero mai la Francia quando dicono il mio paese intendono la Normandia la guascogna la Bretagna e la Provenza i bavaresi non hanno tanto in comune con i prussiani e siciliani toscani veneziani e napoletani non sono mai stati italiani tra loro la nazione non è altro che una semplice forza in una sola nazione non ci sono persone di una sola razza di una sola storia di una sola cultura né di una stessa opinione politica o fede religiosa sono semplicemente esseri umani di ogni tipo rinchiusi all'interno di frontiere che non significano altro che forza militare l'unica cosa che permette a una qualsiasi di queste nazioni di esistere è la convinzione nella mente di quasi tutte le persone rinchiuse all'interno di queste frontiere che il governo controlli naturalmente i loro affari il loro lavoro le loro comunicazioni i loro viaggi il loro sale il tabacco e le finestre e in misura maggiore o minore i loro giornali le loro riunioni pubbliche i loro teatri la loro religione e le loro abitudini personali i lavoratori hanno sempre avuto l'obbligo di chiedere un permesso per lavorare i commercianti per commerciare i produttori per produrre beni le comunicazioni e i trasporti sono sempre appartenute al governo una nuova vasca da bagno o una finestra in casa di qualcuno è sempre stata affare del governo ogni contratto tra individui deve sempre essere registrato in un ufficio del governo e tassato un agente di polizia siede sempre all'interno di ogni appartamento o all'ingresso di un hotel e chiude le porte e allora sarà le stabilita dal capo della polizia perché il governo deve conoscere i landi rivieni e le visite di ognuno questa antica fede nell'autorità è l'intera base dell'oscuro nazionalismo che esiste se non c'è un'altra autorità a cui obbedire gli europei possono solo obbedire a un'autorità che si definisce nazionale come un bambino smarrito obbedisce a qualsiasi adulto così un bretone che ha perso il proprio re obbedirà al governo della Francia e un bavarese a quello della Germania nel continente europeo ad eccezione della Francia tutti gli europei hanno obbedito ai loro re fino alla prima guerra mondiale non hanno mai messo in discussione l'autorità la loro unica protesta è stata ed è tuttora che l'autorità non li controlla abbastanza all'interno di queste moderne frontiere nazionali i lavoratori lavorano di più ma ottengono solo poco di più di quanto facessero i loro antenati nel sistema feudale così i cosiddetti rivoluzionari attaccano i loro governi e le loro classi dirigenti accusandoli di non controllare il sistema sociale come dovrebbe essere controllato socialisti socialdemocratici comunisti fascisti nazionalsocialisti nazisti chiedono tutti che il governo crei un sistema sociale migliore che il governo controlli gli uomini che producono e distribuiscono i beni che il governo crei sicurezza per gli uomini su questa terra e qui sospendo un attimo la lettura di Rose Wilder per ricordare che Rosa Luxemburg si mise contro i suoi stessi compagni di partito sostenendo che la rivoluzione doveva nascere dal popolo e non dal partito nazionalsocialista riprendo la lettura la base di tutto questo pensiero è l'ignoranza dell'energia creativa è l'ignoranza della vera natura degli esseri umani è l'antica superstizione pagana secondo cui l'autorità controlla un universo statico illimitato questa convinzione ha almeno 6.000 anni agendo sulla base di questa credenza gli esseri umani hanno provato tutte le idee che oggi vengono presentate come rivoluzionarie e molte altre ancora hanno provato tutti i modi possibili per creare un mondo umano in cui l'energia umana potesse svolgere il suo lavoro naturale di rendere questa terra abitabile per gli esseri umani e mai in uno di questi secoli sono riusciti con questa credenza limitante a usare le loro energie abbastanza bene da far mangiare tutti a sufficienza eppure continuano a provarci perché gli individui controllano l'energia umana in accordo con la loro fede religiosa qualunque essa sia la fede in un'autorità che controlla un universo fisso limitato e immutabile è la religione se questa convinzione fosse vera allora un mondo umano controllato da una sorta di autorità umana funzionerebbe allora tale mondo avrebbe funzionato almeno una volta abbastanza bene durante i 6.000 anni di sforzi per farlo funzionare ma non funziona per lo stesso motivo per cui non funziona una macchina a moto perpetuo perché il tentativo di farla funzionare si basa su una falsa convinzione e non sui fatti di farla funzionare di farla funzionare di farla funzionare di farla funzionare sui fatti